Siete pregati di depositare gli oggetti metallici ed eventuali borse e valigette nelle apposite cassette di sicurezza all'ingresso. Siete pregati di depositare gli oggetti metallici ed eventuali borse e valigette nelle apposite cassette di sicurezza all'ingresso. Non si è conto! La signorina ha parlato poco! Se io non devo dire il fatto da dire volete venire a fondo qualche po'? Ma non voli! Faccio un lavoro di sartori e ho fatto entro! Sartori! E si consentono giusto che io dico neanche la stessa! Ora signorina, quella a fondo è stato tutto! La picchietta non ha scampo le nostre. Ebbabbè, adesso non ho messo! Sto facendo un'occhiera! Non si risolve. A me pure io posso fare così. Non è rotto! 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 Maria! E' rotto! Chi lo dice non deve alzare le manche! Non è rotto! Non è rotto! Non è rotto! Non è rotto! Non è rotto!